Bentornati ladies and gentlemen su questo camper Dietro di te camper c'è qualcosa che si muove? C'è qualcosa che si muove! FONTUNA SCATOLA! Era il cileno? Voi dovete stare oltre il muro Oltre L'hai scampato il mio corpo Comunque, siamo qui oggi per questo nuovo nascondino su gmod con camper Secondo me questa sedia qua è un po' più torta Perfetto! Arriviamo a 2.500 mi piace per un prossimo video su nascondino Ora, Panto, seguimi Non so dove sei Ho trovato un posto fantastico Col pH Entra qua dentro Dov'è? Dov'è? Ma non si può entrare, sei troppo grosso Stanno entrando Oh no, si è No, cosa ci fa qui? Ti prego, fammi spazio Ma vai dall'altra parte Ma non ci sto Aspetta, ho un'idea Cioè, cosa ci Cioè, queste cose Fenomeno Ti prego, mettiti all'altra parte così simmetrico Cioè, uno entra qui e dice Ma cosa ci fanno queste cose qui, camper? No, 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 tranquillo Prima ci vieno, non mi ha visto Come prima? Prima, eh, prima giocavamo Mi sono nascosto qui Ci hanno andato avanti Nooo, ho pensato subito! Oh! Oh! Dei forni in una cella frigorifera Oh, ma prima stavo giocando, non mi ha visto Ma stavo a dire, ha salato tutte le angurie Le angurie sono belle Guarda qua, Fanto, vieni qui, Fanto Attenzione C'è una scatola sospetta Arancia! Dov'è? E' qua che corre E' qua che corre L'ho preso! Nooo Ma questa cassa che vuole Oh, la cassa! Granata! Madonna assata che ansia a vivere Non è morto! Era qui, a destra, camper L'ho sentito anch'io Una sedia Dietro di te! Lì! Sotto il tavolo! Sotto il tavolo! A sinistra! Dietro di te! Qui! C'era una arancia all'incolo Nooo Regà, non vedo la mia In the face Ma neanche io vedo i mori C'era un'arancia vicino alla gamba del tavolo Camper, dove sei? Camper Io mi metto nel mio posto fantasmagorico E vi saluto dopo E io faccio così Aspetta eh Ti vuoi trasformare? Ah, perfetto Ok, scendi da lì però Forse devo prendere qualcosa di più piccolo Camper, non muoverti Chendole Io canto Io sono... Lo so Ciao 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 Che fessi Ciao Basta fa ciao Non vedo la Moby Il disagio di quel vecchio Ma ne puoi ragazzi Non muoverti panto Ti vedo che ti muovi Non muovi Ok, rotation lock Bene, posso girare Meno male C'è ma un po' di gabbiani qua Esatto Volevi farle prima No No Vabbè No Infatti non potevo No Infatti non potevo Sono morto sul fuoco Sono morto solamente perché fanta ha preso fuoco sopra di me Ha ucciso te Tu sei esploso e preso fuoco e mi hai bruciato No, sei di vita e ho detto boh E queste scatole sminchiate camper Vale Qui, qui, qui camper Qui nell'atrio Attenzione Madonna Strana quella lattina sul divano Dentro la cucina Tu da una parte e dall'altra Ok Cilena Oh guarda Cosa 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 Ho messo due arance in piedi Aspetta proviamo la terza E ora di divertirsi Sei pronti? Che schifo che fai Aspetta stiamo provando a spillare le razze No No Ok Guarda qui Magico Proviamo la terza Ma no E' qua fuori E' nel bagno Nel bagno Attenzione Rega vi siete passati avanti C'è un troll nel bagno delle ragazze Un troll Del bagno delle ragazze? Cilena No mi vedi Che non lo vedo Comunque rega adesso sono diventato un po' enorme Oh L'ho preso Era dietro la porta No Non è possibile Mi sei passato davanti Che coglione Oh quanto così non ci vede se prendiamo questo Ok Camper 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 Dovete sapere che hanno le texture buggate quindi qualche oggetto tipo questi non li vedono Camper non muoverti Perché ti muovi con la sedia? Camper non muovere con la sedia No Vieni 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 Ahahah È dietata fuoco Oh Cristo Pezzo di bordo Nooo L'ho preso non so com'ha fatto Come ha fatto Ma l'ho vinto comunque Con la torcia Si vedono gli outline con scritto error Ahahah E se l'outline si muove Se si muove cazzo Lo scondino buggato Allora, qui c'è un Camper? Perché c'è qualcuno morto qua? Cos'è questo? Che si muove con la statuetta Pensavo di non essere beccato Non sento taunt Bertrand Sì esatto Infatti È qui Con Revit si è schiatato sul muro e si è passato nel minore una metra e quarti Mi tauntà sotto i piedi Va bene Camper dove andiamo? Ha fatto un po' di casino Dove sei? Ah ok per fare casino basta fare così guarda Vetri che si rompono Sto sentendo vetri che si rompono Non va bene Allora Tanto lo so che anche stavo No Camper senti molto lavorativo oggi? Un botto Potreste provare ad andare A fatturare A post non mi beccherà mai Che è stupido non conosce la mappa Ok 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 sto sentendo rumori Devi che è morto Non è morto Cacca Cacca Che scappi Quanto? Arrivo Perché c'hanno due scatole Uno e due scatole E' due scatole qui dentro Vai a controllare l'altra uscita Questa? Si quella Cileno Ma no Non sono qua dentro E' qua nel bagno Dietro la porta lì nel bagno delle donne Quella appoggiata al muro Cileno ci ha sparato una granata e stava là dietro La stronzettino Ciao Non sto cagando Non ci faccio Camper 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 vieni qua dentro il bagno delle donne Ciao Cileno Dai Dov'era? Era Goku non si era neanche trasformato Ma come? Era qua dentro Tu mi hai guardato E tu hai detto Io sto cagando No ti giuro Non c'eri Non c'eri Cileno Non c'eri Era invisibile Da qualche maniera Oh ti giuro Ho aperto la porta Non c'era nulla Cioè neanche non ti vedo C'è Goku Camper sta Avendo le cataratte Faccio di nuovo Anzi più che il ribelle va il ribelle Piccione faccio il gabbiano Attenzione L'ha sentito Era da queste parti No Eccola Ah è fuori L'ho sentito Mi sei passato davanti E' qui E' qui E' qui Era qui Veniva da qua Ah Ecco E' Dov'è Eeeh Ha deciso di porre fine alla sua vita A casa Ma non io sono scappato Perché sono esploso Non lo so Non ti ho manco sparato Non lo so io Probabilmente è campestato Ah 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 Ci deve essere qualcosa di grande Questo Oh cazzo Cosa sono io Cazzo No Non posso più uscire Aiuto camper Hanno rotto tutto Camper cosa fai Cosa fai Addio camper No camper Non ci credo Quella porta che si è aperta e si chiude Ah 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 Cazzo cosa No Cosa è successo Perché tutto va a fuoco No cosa sono diventato Cosa sono diventato Un po' di Ah 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 ahooh questo finca va a ridere ahahahah attiva la tasca oh cavolo io ho capito per capare una gran attacca vai a farlo in culo allora cosa ridi cileno? ma mio di c'era il mio catavere ma non si muove sta non riesco a prendere sta roba ciao cileno cileno vedo un'arancia dentro una lattina aspetta aperterò una lattina mettiamoci qui dietro guarda dove? dove sei? fai impassare sta crollando tutto allora ho un'idea se blocchiamo tutto ok ci sono a posto fai impassare non riesco a passare dai ci sei ciao come state? chi è? io vedo voi come state? voglio fare amicizia ciao facciamo amicizia facciamo amicizia dai vuoi vedere un'esplosione? va bene nooo double kill ma dove non vedono le casse? ma quando sono entrato una casa si è mossa e quindi ho fatto ragionare c'è qualcuno nooo è perchè stavo cercando di entrare io camper sei inutile Fanto fai schifo un bellissimo vaso chi è che ha spostato tutte le scatole? ma l'ha spostato il cileno per mettere davanti a me a me non penso che sei una scatola in realtà sono una scatola ma in realtà non lo sono ah nooo ho sentito il dolce solo dell'oberta che era in bagno scontato come pochi polamento trae un po' di qua un po' di là che è quello? c'era un altro camper c'era un altro in bagno ma sono io in bagno ah perchè va ok erano le tue gambettine ti ho sbagliato di tutto addosso ti ho sbagliato granate e infatti non capivo ciao tizio camper cioè ti scrivono pure i trick nooo mi aiuto camper salvami dovete sapere che bertra e tizio non li vedono questi pro perchè hanno le texture buggate quindi se vedono una scatola che vola c'è una scatola che vola non è la scatola 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 va bene ragazzi direi che per oggi è tutto noi ci vediamo a un prossimo episodio ciao grazie troppo ciao ciao ciao